Salve a tutti, bentornati sul canale di Safutobu Rieccoci qui con Parasitive 2 Riprendiamo da dove c'eravamo lasciati E dopo aver inserito finalmente quella password Abbastanza difficile da trovare Proseguiamo Dobbiamo tornare ai piani alti Al piano superiore B1 Perché ho visto che sulla mappa Ecco, infatti stiamo per entrare in una zona popolata da mostri E al piano superiore ci indica quell'obiettivo lì Quindi adesso passiamo di qua E prendiamo l'ascensore per tornare al piano di sopra Ci sarà qualche mostro nella vasca, presumo Sì, sì, sì No, ah, c'è anche il marshmallow Questo forse con questa Parasitive... Sì Stavo dicendo Parasitive Energy Ok Torniamo di corsa sopra Dopo il nostro ritorno a Dryfield Almeno abbiamo un set di armi Un pochino più competitivo Ecco Chi c'è qua? Oh Chi mostro insieme? Bene Bene, cosa abbiamo... Ah sì, prendi anche questi, va Qui c'è sempre quella porta chiusa Dobbiamo andare per forza al piano di sopra Saliamo Ah Siete pure due Facciamo subito fuori questo Tu stai lì tranquillo, va Non ti scomodare Eh, ormai abbiamo anche parecchia esperienza Vediamo un attimo se riusciamo No A sbloccare qualche altra Parasitive Energy Perché alla fine quelle che sto utilizzando di più sono anche queste Quindi pensavo di potenziarle No, non ce la facciamo ancora Va bene Dovrebbe essere di qua Vediamo E questo? Una creatura gigantesca Qua si va da qualche parte, no? Vediamo cosa c'è di qua Sento Ticchettare Ah, c'è Pierce, si è ripreso Bene E giustamente Noi almeno abbiamo un arsenale di armi con noi Sembra una sala controllo Con un bel po' di telecamere Infatti Ah, vediamo Ah si, eravamo lì prima Una foresta Sì, però mi sa che Non hanno ottenuto Scimmie e elefanti Ma questi mostri Sì, eravamo lì Una foresta Sì, eravamo lì Sì, eravamo lì Grazie a tutti. 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 Va bene. Ma... C'erano però delle... Dove sono le telecamere di prima? No, non è questo. Ah no, erano qua forse. Chiuso. Chiuso. Forse possiamo aprirlo. Operare? Operare? Oh, open. E magari apriamo anche... C'era un ascensore forse... C'era un ascensore forse da attivare. Sì, va bene. Un sistema di sicurezza. Perfetto. Ottimo. Magari... modificati... Siamo proprio tranquilli. Va bene. Volevo passare... Volevo passare solo dall'armeria per... Per prendere un po' di munizioni perché... O... Che... Parecchi proiettili con il mitra. Eh... Visto che andiamo in una zona nuova. Oh, ma... Di nuovo. Non vi è bastato prima. Stai giù. No. Stai fermo. Eh... Ovviamente... Vediamo un po'. Perfetto. Si è ripopolato tutto... Il laboratorio. Qui di mostri. Va bene. Qui... Ho lasciato qualcosa che mi può servire. No. Va bene così. No! Cos'è sta roba? Avveleniamolo immediatamente. Ma no! Cos'è che dice? Muta! A te! Eh... Possiamo accecare. Ma... Ehi... Non si muove più Aya. Forza! Siamo rimasti bloccati. No! Che cosa sta succedendo qua? No! Che cosa sta succedendo qua? Ah, ma... Guarda che brutto... Cambio di status! Caspita! Caspita! Questo... È davvero pericoloso, eh! Mi ferisce! Mi cambia gli status... E poi si cura lui! Bene! Un integratore da qualche parte... Sì! Dunque l'armeria è di qua! Eh... Bisogna rifornirsi bene, va? Prima di andare... Apri, apri! Prima di andare in questa zona nuova. Di qua. Forse abbiamo aperto... Il passaggio prima. Ok. No, di nuovo tu. Potenziamo subito i proiettili. No, però... Passiamo di dietro. No! Eh... Eh... Altra volta... Mi avete preso alla sprovvista, ma... Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Oh... Anche se forse questo è il sistema di sicurezza che ho disattivato, ma... Non lo so... Visto che me le punta... Sarà meglio farli fuori. Usiamo il mitragliatore normale, va? Di qua si va avanti, quindi forse ci sono altri nemici più indietro. Ok. Basta. Mancherà un colpo. Ottimo. Bene. Bene. Non ci è andato praticamente nulla. C'è un parcheggio di là e quest'altra zona. Proviamo di qua. Sai controllo? Si è aperto. Ah, forse questo è un collegamento con... Quest'altra zona di qua. Si, si, si. Perfetto. Però... Non ci serve stare di qua per ora. Proviamo questa... Zona qua. Questo container cilindrico. Inutile. Va bene. Allora andiamo avanti di qua. Ok. Attenzione. C'è un telefono. Un container. Di là c'è un grosso cancello. Si può aprire? Questo? Niente. Porta per i veicoli giustamente. Non deve entrare nessuno. Di qua. Garage. C'è una chiave. Bene. Chiave auto. Ci manca solo l'auto adesso. Non è che ci da una mano Pierce qua. Ah, no. Chiamiamo sempre... Il nostro capo, lì. Ah, no. Chiamiamo sempre... Il nostro capo, lì. E niente. E niente, quindi... Sembra che da questa parte non si possa fare nulla... Per il momento. Quindi... tornare indietro ad esplorare una di quelle zone nei livelli bassi. Nemici? Addirittura due di questi. Eh... Gli faceva poco la magia, se non sbaglio. Meglio potenziare... ...i proiettili e passare... ...al mitragliatore, va? Ecco, l'altro mi ha puntato. No. No. Cambio di status. Dai, riprenditi. Aia, per cortesia. No, di nuovo. Devo cercare a nascondere qua dietro. Ho capito. No. Ce la facciamo? Non ce la facciamo. Ma che palle. Metabolizz? Funziona? Che maledetti sti mostri, oh. Ce l'abbiamo fatta. Devo pure curarmi. Sembra una lampadina. Lampadina a led da discoteca. Tieni, va. Che cavolo. Carica un po' che... Dobbiamo dare la stessa medicina anche all'altro, là dietro. Tu! Non l'ho preso. Bene. Ho sprecato un colpo. Forse era troppo lontano. Tiè. A te niente. No. Mi sono anche dimenticato dove devo andare. Sì, dobbiamo andare di qua. Prendiamo... Questo ascensore. B2. Ecco, i marshmallow già mi piacciono di più. Qua non c'è nessun altro. facciamo in fretta. Facciamo in fretta. Non vedo più il mio personaggio Ok Eh prendi tutto Curiamoci intanto Qui avevamo aperto la porta Prima Ci saranno altri mostri credo Allora c'erano questi due passaggi chiusi Uno Forse abbiamo attivato l'ascensore adesso Vediamo se funziona Scendiamo Oh funziona Oh no Qui forse ci siamo andati Forse è l'altro ascensore Dovrebbe essere questo Qui ce n'era un altro Quest'altro Ah ecco Si ti sento Pierce Eh grazie L'ho attivato io prima Allora Infatti C'è scritto ARC Lì sulla piattaforma Excuse me sir Yes Come in Allora No 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 Allora Allora Oh yeah Is that an elephant? Mi sa che non sarà nulla di buono Oh yeah E questo a fare qui è l'elefante Va bene Siamo arrivati in questa nuova zona Neo Arcasi Per questo video è tutto Spero che Questo episodio vi sia piaciuto E ci vediamo con il prossimo video di Parasitive 2 Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti